Dal Ministero per la Cultura quasi 3 milioni di euro per rafforzare quel progetto che vuole il castello aragonese di Taranto risanato ma anche conservato. Andrà anche nel recupero di reperti importanti, ci sarà la catalogazione anche informati con l'informatizzazione quindi per poter visitare e vedere questi reperti non soltanto in presenza dove sarà adibita un'ala del castello per fare tutto ciò ma anche in remoto. Il castello più visitato della Puglia, importantissimo il ruolo della Marina Militaria Italiana in particolare del Comando Marittimo Sud ma che tempi ci sono per vedere poi i risultati di questi fondi che arriveranno e chi se ne occuperà? Noi pensiamo che già entro un anno, un anno e mezzo noi potremmo toccare con mano questo risultato. Sarà il Ministero della Cultura a gestire direttamente tutte le procedure. Con grande lungimiranza da parte del Ministro Franceschini ma voglio anche ricordare l'attività che ha svolto il Presidente Emiliano nella sua recente nuova veste di Vicepresidente della Conferenza delle Regioni perché questo è un progetto passato nella conferenza unificata Stato-Regioni alla vigilia di importantissimi appuntamenti che vedranno Taranto sempre più centrale nell'organizzazione di grandi eventi sportivi, culturali, turistici. Grazie.